Gentili telespettatori, buona giornata, mozione di sfiducia per Emiliano, il Presidente della Regione Puglia. La mozione di sfiducia ha buone possibilità, forse ottime possibilità di riuscita. Emiliano potrebbe essere cacciato dalla Presidenza della Regione, come è giusto che sia, perché non si può accettare in un Paese come l'Italia un Presidente di Regione che porta l'assessore dalla sorella del boss, te lo affido, cioè mette sotto la protezione della sorella del boss un politico. È qualcosa che proprio non si può sentire. Dopo una dichiarazione del genere, dopo cinque minuti la Schlein avrebbe dovuto cacciarlo dal Partito Democratico. e avrebbero dovuto in qualche altro modo cacciarlo dalla politica, dire via, sparisci e non ti fare mai più vedere, interdetto dagli uffici pubblici per tutto l'universo, non per la Puglia, per l'universo. Invece no, è ancora lì, baldanzoso, sprezzante. Ma a parte questo, poi, ne ha combinate altre, ne ha dette altre, proprio in settimana. E allora il centrodestra fa questa mozione di sfiducia, faremo dimettere Emiliano, dicono, poi è stato avvertito da qualcuno che un suo politico stava per essere arrestato, allora gli ha telefonato e gli ha detto, dimettiti subito o ti caccio. Mi hanno detto una voce a Roma, poi lui dice a Roma, magari è lì in Puglia, vicino a casa sua, una voce a Roma mi ha detto che tu stai per essere arrestato, dimettiti subito. E questo politico è andato dai magistrati a fare vedere le chat dove questo presidente di regione gli diceva, dimettiti subito o ti caccio. Quindi, fuga di notizie sull'inchiesta di Bari. Pertanto vi dico, questa persona dovrebbe essere cacciata immediatamente. Dove sei Elena? Che ti fai chiamare Ellie? Non farti chiamare Ellie, che fatti chiamare Elena ma caccia subito questo Emiliano. Ecco, insomma, che vada in Emilia Romagna a fare l'Emiliano. Cosa vi devo dire? L'Emiliano Romagnolo. Vabbè, ogni tanto scherzo, vi faccio una battuta un po' per farvi divertire. Mi permetterete, no? Giusto? No? Vabbè, andiamo avanti. Quindi, il centrodestra prova a riprendersi la Puglia. E ora che la Puglia cambi registro, insomma, con quello che abbiamo visto succedere in Puglia, che poi è tutto quello che succede un po' dappertutto, insomma, succede un po' dappertutto, non è che solo in Puglia sono corrotti, ladri, truffatori, collusi con la criminalità, compratori di voti, dappertutto è così, eh? Dappertutto. È solo che per adesso li hanno scoperti solo lì, perché hanno fatto delle denunce, eh? Non è che la magistratura ha seguito un intuito, ha fatto delle denunce. Questa roba è venuta fuori da delle denunce. Bene, i gruppi consigliari di Fratelli d'Italia, Forza Italia, Lega, e la Puglia domani, domani, chiedono le dimissioni del governatore, che poi non governa una ciufola, Michele Emiliano, perché sono presidenti di regione, i governatori sono quelli negli Stati Uniti, che governano degli stati, ma li governano veramente. Sicuramente quelli da noi sono dei presidenti di regione, perché la regione è solo una suddivisione amministrativa dello Stato, quindi governano che? Ma cosa governano? Neanche casa loro governano. Bene, pronta la mozione di sfiducia, che come annunciato in una conferenza tenutasi ieri, verrà depositata nella mattinata di domani. Secondo l'opposizione, il centrosinistra non avrebbe i numeri per governare in regione, dopo gli addi al gruppo DEM, da parte di Michele Mazzarano e Anita, Mauro di Noia, lei di preferenza, no? Fantastico. E delle dimissioni del capogruppo di CON, Giuseppe, Tapputi, e soprattutto dell'uscita del Movimento 5 Stelle, chiamato dai salviniani a firmare il documento presentato dalla minoranza. A gettare poi il fuoco, il famoso SMS dell'ex presidente dell'Agenzia regionale Arti Alfonso Pisicchio, Michele Laforgia, candidato dai pentastellati, pentastellati, mamma mia, al comune di Bari, conferma l'esistenza del messaggio ultimatum in cui il presidente della regione avrebbe detto all'esponente della sua giunta o lasci o ti caccio. Che fai, mi cacci? Secondo la sua versione, raccontata ai microfoni di Rai Radio 1, gliene avrebbe parlato qualche ora prima dell'arresto e lui sarebbe rimasto sorpreso. Intanto, De Caro, il sindaco di Bari, quello che fu portato sotto la protezione e affidato alla sorella del boss, pensate un po', sindaco di Bari, e anche questo dovrebbe sparire con la velocità della luce e invece è lì che pontifica. Anzi, Elena, quella che si fa chiamare Ellie, l'avrebbe promosso, è candidato alle elezioni europee. Europee? Sì, tu sì che vali. Tu sì che vali. Uno dei migliori sindaci italiani, dice Elena. È stato affidato alla sorella del boss, sotto la protezione della sorella del boss, è uno dei migliori sindaci d'Italia. Ma io dico di quale tipo d'Italia? Ma andiamo avanti. Bene. Non c'è dunque solo il solito Renzi a dire che non c'è un dossier su cui non abbia fatto danni, Emiliano. Insomma, il buon Matteo Renzi, shock because shish, la sa lunga Renzi, Renzi la sa, la sa molto lunga. Infatti ha sempre detto non c'è un dossier su cui Emiliano non abbia fatto danni. E proprio Renzi dice il suo modo di fare politica è completamente all'opposto del mio. E quindi Renzi vorrebbe dire ma non dice per evitare diffamazioni e denunce. Sa benissimo come funzionano queste cose Renzi. Lui è un grande denunciatore, fa bene, di persone che lo diffamano. Lui porta in tribunale tutti quelli che lo diffamano e fa bene. Quindi sta molto attento a non diffamare gli altri. Quindi Renzi sa tante cose su Emiliano ma dice solamente è diciamo che Emiliano ha un modo opposto al mio di far politica. Secondo voi cosa significa? Ha dei metodi suoi. Secondo voi cosa significa? Qualcosa abbiamo scoperto, no? Lui che porta l'assessore dalla sorella del boss e te lo affido lo sta di fatto mettendo sotto la protezione. Chiaro? Quindi questo è quello che noi abbiamo scoperto. Chissà Renzi quante ne sa. Chissà Renzi quante ne sa però non le può dire. E allora dice solamente io sono diverso da lui sono l'opposto di lui. Non c'è una cosa su cui lui non abbia fatto danni e chiama solo danni. Speriamo che questo presidente di regione venga cacciato con la velocità della luce perché l'Italia non può permettersi questo. Ne va dell'onorabilità del paese e della regione Puglia dei pugliesi. Grazie a tutti e arrivederci a presto.